Salve a tutti amici di Youtube, eccoci qui con il nuovo Retro Deck Profile di Settembre 2011 con il Tour Tengu Plant. Ok, cominciamo subito, mettiamo da parte l'extra, ovviamente tre Tour, è un Sangan, tre Tengu, ovviamente reparto piantine con Blosso, Dendy, Bulbo e Spora. Ma maledette, un Debris, un Caius, un Gortz e un BLS, doppio Thunder King, doppio Maxi e doppio Wailer, immancabile. Siamo alle magie, tocco a Magari, doppio Typhoon, Reborn, Mind Control, Dark Core, Pot of Avaris, che bei tempi, Skips Goat, One for One, Enemy Controller, Book of Moon, Foolish e Eevee Storm. Penso di non aver dimenticato nulla, poi Trappole, doppia Priso, Solennone, doppio Solemn Warning, Call, Torrential e Dust Shot. Crea una carta veramente over, che ha fatto la brutta fine. Poi extra, una formula, un Armory Arm, un Librarian, un Catastor, un Brionac, un Iron Chain, non gioco Orient ma gioco l'Iron Chain per Debris, tipo Debris, Maxi, 6 in caso, Black Rose, Scrap, Stardust, Trisciola, una delle carte più forti di Yugi mai create, gioco lo Shooting perché è un figone, Deviatano, Deviair, Delmenes e infine un Roach, che era praticamente un cagacazzo. E a volte lo è tutt'ora. Vabbè ragazzi, questa era la decklist del mio Tour Tanko Plant di settembre 2011. Quindi, progetti futuri sul canale, non so ancora che video fare. Quindi, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale e vi do il prossimo video. Grazie. Grazie.